Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video tutorial, io sono Romano, amici miei oggi siamo qui tornati con le sfide di Fortnite per Rocket League, ovvero con la nostra Octane Amici miei, la Octane è proprio la macchina di Rocket League, lo dico per coloro che non lo dovessero sapere Comunque ragazzi, oggi andiamo a fare una bella sfida che non è neanche così tanto difficile Ci richiederà di eseguire un flip a 720 gradi in aria, in avanti o all'indietro con una Octane Ragazzi, praticamente dobbiamo fare un po' i matti mentre siamo in aria con la nostra Octane Ragazzi, mi raccomando lasciate un bel pollicione all'interno, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi Allora ragazzi, cosa dovete fare? La Octane per coloro che si stessero domandando dove cazzo la posso trovare Amici miei, la potete trovare ovunque dove c'è tutti questi punti pingati nella mappa, io l'ho presa qui dove c'è proprio la rampa amici miei Quindi potete stare tranquilli Subito dopo di questa squadra facciamo una bella rampa, un bel salto e poi subito dopo dobbiamo fare tutti questi flip Mentre siamo in aria Dover fatto questo vedete la sfida è stata completata Veramente bellissima questa mappa ragazzi Spero che il video vi sia stato d'aiuto, è stato così bene quando ho lasciato un bel pollicione in su E se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi ragazzi, grazie a tutti coloro che lo faranno Caricherò tutti gli altri video tutorial sulla Octane Li troverete tutti sul canale entro stasera Quindi ragazzi io vi saluto e noi ci ribecchiamo al prossimo video della nostra Octane Alla prossima, bello!